Grazie a tutti. E questo è per tutti. Basta parlare, spazio alla musica e spazio all'arte, al talento, alla classe e alla grazia di Simone Cristicchi. Questa è stata e spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare, ti regalerò una rosa, una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Ringraziamo tutti voi per essere arrivati qui su. E ringraziamo Risorgi Marche, questa realtà meravigliosa che cresce di anno in anno. E buon compleanno a Neri Marco Re. Grazie a lui e a tutti quelli come voi che fanno di questo festival un sogno ad occhi aperti per chi è da quest'altra parte. che accogliamo con un abbraccio e un applauso, Ermal Meta! Non mi avete fatto niente Non mi avete fatto niente Non mi avete tolto niente Questa è la mia vita che va avanti Oltre tutto, oltre la gente Non mi avete fatto niente Non avete avuto niente Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre Chi si fa la croce, chi frega sui tappeti Le chiese, le moschere, gli immame in tutti i pretti In grassi separati della stessa casa Miliardi di persone che sperano in qualcosa Braccio senza mani, faccio senza nomi Scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani Perché la nostra vita non è un punto di vista Non esiste bomba pacifista Grazie! Oggi a Risorgi Marche ho ricevuto un grandissimo regalo di compleanno Anzi, un doppio se non triplo regalo di compleanno Perché il concerto di oggi è stato aperto da Simone Cristicchi E dagli New Quartet che hanno recuperato il loro concerto del 6 luglio Che era stato interrotto per pioggia E poi è stato seguito dall'orbite a sorpresa Che tutti hanno scoperto con grande gioia essere Ermal Meta Che in questo momento si è travestito da cowboy Con un cappello che ha preso in prestito dal pubblico E sta interpretando una cover di Anouk Dopo aver eseguito tanti dei suoi successi E tra queste è il brano che l'ha fatto vincere Sanremo Insieme a Fabrizio Moro Una bellissima giornata, un altro appuntamento strepitoso di Risorgi Marche Abbiamo ancora qualche data, quindi vi diamo appuntamento a domani Ci sarà il concerto di Tochigno Il secondo ospite internazionale dopo Noa Si esibirà tra Visso, Pieve Turini e Monte Cavallo L'applauso non è per me, è per Ermal E forse anche un po' per Tochigno E quindi vi aspettiamo domani E poi ci sarà il 2, l'ultimo concerto con il sottoscritto e gli New Quartet E altri amici a interpretare le canzoni di Faber Ci vediamo su questi prati, grazie Grazie